non so chi dei due vuole iniziare questo questo racconto chi come quando dove perché che possono le domande diciamo alle quali vi chiediamo di rispondere dai vado io proprio in due parole poi magari ti racconti più l'inizio della palestra racconto come arriviamo a quarticciolo noi io e mano abitavamo a uno studentato occupato che stava al centro di roma che stava nella zona dell'università che è un'esperienza a cui siamo arrivati diciamo dopo il ciclo di mobilizzazioni studentesche il 2008 2010 poi in periodi diversi perché manu in quel periodo della sua vita anche fatto altre cose è stato in brasilia ha fatto un sacco di roba però fondamentalmente a intervalli regolari ci siamo incontrati in lab abbiamo fatto questa esperienza insieme dal 2013 ci hanno sgomberato agosto 2015 ma in realtà già subito prima dello sgombero nei mesi nella primavera precedente c'avevamo tra diversi noi la voglia di misurarci con esperienza di quartiere fondamentalmente nel senso ce l'ha piaciuto molto vivere insieme da studenti ma troviamo pure un pochino alienante vivere al centro della città dove comunque dopo due anni e mezzo tre anni di vita insieme non eravamo riusciti a sviluppare grandi relazioni col territorio se non appunto con gli studenti e quindi partecipavamo già attivamente alla lotta per la casa nel senso che anche De Gage è stato occupato all'interno di quelle giornate e venivano chiamate il tsunami tour per l'emergenza abitativa razzarri del 2013 era il secondo nello specifico la giornata in cui in contemporanea in diversi punti di roma venivano occupati palazzi da persone anche condizioni molto differenti e il quarticciolo è un'occupazione storica del movimento per lotta per la casa mi pare del 97 ma potrei sbagliarmi di un anno o due comunque fondamentalmente parliamo di un ciclo di lotta ormai preistorico non se ne abbiamo conosciuto soltanto dei racconti eh di chi l'ha vissuto è un'occupazione che per motivi proprio architettonici non è mai stata un'occupazione di massa nel senso che poi per i movimenti è diventato un contenitore per gli autorecupero è diventato un po' perché le mura sono molto spesse per delle famiglie numerose non è particolarmente agevole quindi era un'occupazione quando noi siamo arrivati un pochino in cerca di una strada anche di eh di un profilo in cui però abbiamo incontrato un gruppo di persone un gruppo di compagni e compagni che già da un annetto o due facevano attività sociale principalmente nel negli scantinati del palazzo forse sia una red hub che esiste eh tuttora noi siamo arrivati con l'idea di fare il pugilato fondamentalmente anche con tantissime altre idee però fondamentalmente siamo partiti il primo anno in realtà la settimana dopo in cui siamo arrivati abbiamo aperto la palestra e con un laboratorio nelle scuole ma insomma sulla palestra lascio la parola a mano a noi eravamo un gruppo di sei sette persone in tutto all'inizio questo più o meno più o meno tutti e la stessa età questo è mi ridici il nome proprio della dell'occupazione se ce l'ha insomma come come l'ex questura ex questura dell'occupazione su quarticciolo intendi no Giorgio era la domanda sì 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 poi adesso la palestra immagino abbia un altro nome insomma la sì sì ok va bene quindi ricollegandomi a quello che diceva Pietro e nel fine agosto del duemila e quindici occupiamo questo locale che era un ex locale caldaie ehm presente là sul territorio anche esso abbandonato da più di vent'anni e di proprietà dell'ater e con l'obiettivo di costruirci all'interno una palestra popolare ovviamente prima di fare questa operazione dell'occupazione abbiamo diciamo sondato il terreno no se così si vuol dire in quartiere con attraverso le altre persone delle quali parlava Pietro diciamo che per dare un po' di nomi eh gli abitanti dell'ex questura si erano già riuniti in un collettivo che si chiamava Red Lab Quarticciolo al quale noi possiamo dire di essere subentrati nel duemila e quindici quando siamo andati a vivere là sul quartiere come raccontava Pietro quindi con le persone che erano già presenti sul territorio hanno con loro abbiamo sondato il terreno per capire se questo spazio oltre a essere abbandonato fosse davvero eh diciamo non ha nessuno ne aveva interessi sopra o comunque non c'era nessun tipo di attività che lo riguardava e avendo ricevuto una risposta affermativa nella nella corso del duemila e quindici poi ho deciso di occuparlo e per un anno abbiamo portato avanti la ristrutturazione di questo spazio è stato un anno complicato anche perché abbiamo effettuato le ristrutturazioni tutte completamente in forma autonoma e dedicando parte della nostra giornata dei nostri fine settimana per tutto per tutto l'anno il che è stato possibile grazie e soprattutto alla partecipazione diciamo di una parte degli abitanti della borgata che hanno continuato comunque a sostenere il progetto e fin da subito quindi ognuno attraverso le sue possibilità ognuno con le sue conoscenze però dopo già insomma c'era stata una partecipazione attiva e questo ci ha portato quindi alla fine di un anno nel settembre 26 settembre del 2016 ad inaugurare la il progetto della palestra progetto della palestra che nasce appunto con diciamo maggiormente diciamo su due discipline quella del pugilato e non da subito mi sembra con il parkour all'inizio avevamo cominciato con la kickboxing se non ricordo male però insomma diciamo il pugilato era la disciplina principale fondante e lo abbiamo organizzato fin da subito con una grossa attenzione a quelle che hanno le fasce giovanili per cui invece che organizzare un megaturno come si fa generalmente nelle palestre di pugilato di quasi tutto il paese per cui un turno unico che raccoglie tutti i bambini e le bambine fra i 5 e 6 anni fino ai 12 13 anni che è l'età in cui si può fare il passaggio al pugilato direttantistico un paio di volte a settimana si organizzano noi invece al contrario abbiamo deciso da subito di dividere quindi abbiamo cominciato un turno due volte a settimana per i bambini dai 5 e le bambine dai 5 a 9 anni e un turno su tre volte a settimana per tutti i bambini e le bambine dai 9 ai 13 anni quindi dedicando metà del nostro tempo a rapporto alla relazione con i più piccoli della borgata un turno invece aperto all'attività amatoriale per cui tutti quelli che venivano a fare il pugilato diciamo senza finalità fini agonistici e poi un turno dedicato invece ai pugili agonisti che si svolge tutti i giorni e diciamo sulle motivazioni sul perché abbiamo deciso di cominciare con una palestra popolare e ci stavano delle motivazioni pratiche per cui il fatto che all'interno del nostro collettivo io nello specifico ho fatto il pugilato sono un ex pugile e stavo già seguendo un percorso di formazione all'interno della federazione pugilistica italiana come istruttore di pugilato quindi questo è il motivo per cui abbiamo scelto questa disciplina ma poi sul perché abbiamo scelto di aprire una palestra popolare diciamo che la volontà era quella di una serie di elementi in contemporanea cioè uno fra questi è quello di costruire un posto che potesse essere fornire un'alternativa ai ragazzi e ragazze e gli abitanti della borgata per cui avere uno spazio da attraversare all'interno del quale passare il proprio tempo le proprie giornate condividendo dei valori per alcuni nuovi se vogliamo no rispetto a quelli che sono i valori condivisi invece le altre realtà attraversate e questo è una prima motivazione la seconda motivazione è quello anche di mandare un messaggio per cui quello di dire se ci sono spazi abbandonati gli spazi non devono mai rimanere vuoti ma devono essere ridonati alle comunità del quartiere e non essere utilizzati per le finalità sociali e per ciò che serve all'interno del quartiere e non bisogna in nessun modo aspettare che sia qualcun altro a farlo per noi ma possiamo essere sempre noi protagonisti della nostra vita e quindi organizzarci e cercare di superire a quelle che sono le nostre esigenze e poi anche dal punto di vista un po più specifico diciamo che il pugilato di per sé rappresenta la scelta corretta perché è un stupendo strumento di insomma per crescere per per acquisire delle diciamo come si dice delle potenzialità a livello personale nel senso di conoscersi meglio imparare a affrontare delle difficoltà degli ostacoli e quindi avere la capacità poi di affrontare quella che ha la vita fuori dalla palestra una maniera più migliore ecco no comunque parliamo di una situazione di forte disagio in tanti casi e quindi avere le spalle un po più larghe fra virgolette aiuta ad affrontare quelle sono difficoltà della vita in termini non sono materiali ma anche ideologici no e e quindi mi pare che più o meno queste sono le motivazioni e poi la necessità e la volontà di allargare il nostro progetto costruire un progetto con l'obiettivo di arrivare a costruire una comunità resistente all'interno della borgata del quarticciolo e quindi la palestra era uno strumento un mezzo per iniziare questo percorso per entrare in relazione sì con i giovani ma anche con le loro famiglie tanto che poi nel dopo due anni di attività eh sì due anni e mezzo per meno due o tre anni attività e nasce il comitato di quartiere proprio a a seguito dello sgombero eh della famiglia di uno dei ragazzi di una famiglia insomma che mandava i bambini in palestra per cui ehm questa era una famiglia appunto che aveva tre figli ha tre figli che li manda in palestra tuttora e sono stati vittime di uno sgombero coatto insomma una mattina all'alba di due anni fa tre anni fa e a fronte di questo primo episodio appunto è nato il comitato di quartiere della borgata e non so se a questo punto vuoi riallacciarti Pietro per raccontare quello che si 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 no si aggiungo due cose insomma sulla genesi della palestra nel senso che poi almeno per per quello che mi riguarda là una delle chiavi piccola premessa noi facciamo tutta questa ricostruzione a posteriore ovviamente non era tutto così lineare nel corso delle cose diciamo a distanza di anni ve la raccontiamo così e no secondo me una delle chiavi che è stata è che rispetto alle esperienze pure precedenti che avevo fatto al mio punto di vista politico e il nostro impatto del quarticciolo non è stato tanto arrivare e fare una proposta complessiva di come dovrebbero andare le cose o delle lotte giuste da fare o di una verità che c'avevamo in tasca in qualche maniera ma è stata mettere a disposizione una capacità che esisteva nello specifico quella di Emanuele Falpuggi e poi di altri ragazzi e ragazze sulla ristrutturazione dell'immobile per costruire le relazioni e soltanto dopo due anni e mezzo siamo arrivati a fare una proposta tra virgolette politica per come eravamo abituati a pensarla prima cioè la lotta per la casa classica il picchetto antisfratto la mobilitazione sul tema su cui magari pensavamo di essere già più preparati arrivando a quarticciolo avendo fatto esperienza la lotta per la casa anche prima quindi il comitato nasce così cioè nasce in una grande concretezza cioè da una vicenda specifica che è vissuta come un'ingiustizia alla borgata che lo sgombero in questione è di una famiglia che fondamentalmente è di gente conosciuta da tutti che è fuoriuscita dal meccanismo dei campi rom che è un meccanismo punitivo ha costituito un supercorso di emancipazione e viene fondamentalmente sgomberata nel momento in cui c'è il blocco degli sfratti per un muro in cartongesso che divide l'unico locale in cui dormono insieme tutti e cinque membri della famiglia quindi una condizione di assoluta necessità c'è una sproporzione all'intervento delle forze dell'ordine evidentemente non misurano neanche la situazione si sono evidentemente abituati ad agire in questi contesti senza una controparte che è in grado di articolare un discorso politico e pubblico per cui vengono coi blindati fanno un macello fondamentalmente le persone pensano che ci sia un'operazione antidroga quella mattina quando scoprono che invece una famiglia di cinque persone che perde casa questo alimenta e enfatizza diciamo quello che sta succedendo in quel momento il comitato poi va a ondate, bastagioni, cioè c'è il momento in cui all'inizio questo episodio scatena la paura di ulteriori sfratti, ulteriori sgomberi quindi la partecipazione è soprattutto legata a ottenere delle rassicurazioni in questa chiave e allora ci sono le mobilizzazioni del municipio, Coater, con la regione alla fine sono costretti a venire al teatro di quartiere a fare un incontro con tutti gli abitanti e lì vediamo che il primo step con il comitato è invertire il fatto di decine di persone che sono abituate a non essere ascoltate quando si confrontano con le amministrazioni perché non si sanno esprimere bene, perché non sanno quali sono i termini perché viene sempre risposto che hanno sbagliato qualcosa in termini dei moduli che dovevano presentare delle richieste che dovevano fare, che è sempre colpa loro quindi la prima cosa su cui lavora il comitato è che inverte la dimensione collettiva è questo, che ti arrivi in un posto e comunque ti ascoltano cioè comunque diverso per l'altro sono costretti a darti risposte positive o negative poi l'estate dopo c'è un distacco dell'acqua all'ottavo lotto per cui la lotta del comitato diventa ai picchietti fondamentalmente perché le famiglie li attaccano, ma l'aceo li vuole distaccare e pure là c'è un aspetto molto materiale della lotta che sta insieme la mattina all'ottavo lotto a fare picchietti e poi c'è un aspetto vertenziale che invece riguarda l'interlocuzione cocea col municipio diciamo per episodi, non vi racconto tutto perché sennò vi intrattengo troppo a lungo arriviamo forse alla lotta principale quella in questo momento ci sta portando parecchio e parecchio crescita che è quella delle due palazzine di via Uggento che per noi è un passaggio decisivo uno perché rispetto alla storia che vi raccontava Manu all'inizio cioè di questa famiglia del primo sgombero subito in quartiere che vive la palestra è il luogo in cui hanno rioccupato immediatamente dopo l'assemblea di massa che c'è stato dopo lo sgombero con la famiglia e quindi torniamo a lavorare a distanza dei anni sulla stessa composizione con una risposta ulteriormente maggiore due perché le favelas sono obiettivamente il posto peggiore del quartiere c'è il nome tradisce insomma un pregiudizio abbastanza negativo che purtroppo però ha dei fondamenti perché le condizioni di vita in un quartiere già difficile alle favelas sono parecchio complicate per farvi soltanto un esempio abbiamo trovato dei recenti degli articoli del 63 in cui già si diceva che quei palazzini non erano agibili non ci si potava fare niente i soffitti sono troppo bassi non sono abbastanza illuminati siamo al 2021 fondamentalmente senza nessun ulteriore intervento c'è un elemento di promessa tradita delle istituzioni cioè là una volta ogni 4 anni prima venivano svuotate e poi rioccupate dal 2006 una volta ogni 8 anni arrivano dicendo che le ristrutturano e poi non succede niente e di cui l'ultima volta appena arrivati noi in quartiere vengono co-rendering cioè gli fanno vedere come funzioneranno le casette sotto casa scompaiono e quarta che forse per me è la cosa poi decisiva per noi è la prima volta in cui vinciamo cioè non è che blocchiamo uno sfratto o blocchiamo un distacco 60 famiglie prendono casa che capisco che nell'economia di questa città sia un dato molto relativo però non c'era mai successo cioè vedi proprio le persone che fanno un passaggio in avanti cioè più gli pioveva dentro casa e adesso stanno prendendo degli alloggi in cui questo non succede e quindi per il comitato io direi che questa vicenda qua va saltata a più e pari la vicenda di come abbiamo vissuto l'emergenza Covid perché penso e credo che forse ci torniamo in un altro momento però dal punto di vista vertenziale questi sono stati i terreni su cui poi ci siamo misurati e su cui siamo cresciuti il dato del Covid ci interessa sempre perché sono stati ovviamente spesso e volentieri queste reti che poi hanno aiutato famiglie che magari per l'articolo 5 del piano casa o per altre ragioni non possono nemmeno richiedere nessun tipo di finanziamento nessun rimborso quindi sicuramente è interessante saperlo dirlo perché il più possibile perché questo aiuta anche a capire diciamo certe situazioni perché nonostante siano passati anni sull'articolo 5 ancora nessuno dice niente ed è una cosa abbastanza diciamo grave volevo anche capire che relazione se ce l'avete come ce l'avete con chi diciamo avete con le altre gli altri spazi occupati diciamo del quadrante perché comunque io mi occupo del mamma che sta a 200 metri insomma mezzo chilometro non so insomma ci sono altri spazi occupati per esempio il 4 stelle se non erro faceva anche pugilato adesso mi vengono in mente delle cose così ecco la volevo capire se per esempio avete relazioni con questi altri spazi insomma credo che il movimento poi quando hai parlato dello tsunami ovviamente metteva insieme veramente no tutta la lotta per il diritto all'abitare diciamo però ecco volevo capire a livello di quartiere con chi avevate e se avevate anche relazioni diciamo che la dimensione sportiva poi magari ve la racconta Panu perché c'ha poi dei suoi livelli anche l'organizzazione chi promuove sport dal basso c'ha delle sue forme e ti rispondono un pochino di più sulla lotta per la casa nel senso che tuttora la nostra occupazione è ex questura un'occupazione qua abitano 30 famiglie del coordinamento cittadino lotta per la casa che è uno dei movimenti per il diritto all'abitare sul territorio nello specifico negli anni alcune delle lotte che facciamo le abbiamo condivise molto con le occupazioni di zona ad esempio la questione delle residenze che te anche citavi che qua riguarda anche gli occupanti dei case popolari non soltanto diciamo gli occupanti dei movimenti è una di quelle vicende in cui a Singhiozzo torniamo a intervenire abbiamo fatto un'occupazione del municipio il mese scorso per la questione sanatoria perché poi quello che non si dice è che questa cosa le moleste valenti che è stato l'escamotaggio con questa la resa sostenibile quella norma è una toppa che è più grande del buco ci ha fatto un danno maggiore adesso abbiamo 29.000 persone a Roma e non sappiamo se sono barboni senza fissa di mora o se sono gente che occupa le case e questo vuol dire che quando fai una sanatoria quando intervieni quando ripienificai un servizio territoriale non hai la minima riccia di fronte e su questo terreno qua abbiamo lavorato con più frequenza con i movimenti di diritto all'abitare io per quello che mi riguarda mi dico pure che il quarticciolo è un mondo che ti assorbe quindi a volte perdiamo un po' il contatto con il resto della città però di fondo queste qua sono le relazioni che abbiamo storicamente almeno grazie e dal punto di vista sportivo invece considerate che sì il 4SL è stata la prima trasferta dei bambini del quarticciolo se non mi sbaglio per cui era il primo anno di attività e andammo al 4SL tutti insieme per fare delle esibizioni di pugilato con Anthony che era allora il tecnico di pugilato dal 4SL e di suoi ragazzi adesso purtroppo diciamo quell'esperienza si è interrotta per cui loro non hanno più il turno però la cosa bella è che invece manteniamo i rapporti con i bambini del 4SL che fanno il pugilato per cui proprio l'altro giorno al turno amatori sono rivenuti due dal 4SL che sommiglia ragazzi a quarticciolo qualcuno di loro contiene dei rapporti per fare il gruppo di amici quindi insomma manteniamo i rapporti ecco quello sicuramente questo rispetto al territorio ristretto poi a livello cittadino ovviamente le realtà di sport popolare collaborano una cosa interessante anche che tutte le realtà che fanno pugilato su Roma che provengono dallo sport dallo sport popolare sono tutte tesserate con la federazione pugilistica italiana e quindi collaboriamo anche nell'organizzazione di eventi di pugilato competizioni e questo tipo di iniziative ecco senti mi spieghi diciamo una palestra popolare rispetto a una palestra normale diciamo ecco anche rispetto ai finanziamenti a come si riesce a sopravvivere diciamo in che modo perché ovviamente ci saranno delle spese noi cerchiamo anche di capire diciamo come ogni organizzazione dal museo insomma cerca di risolvere i problemi che c'ha insomma con una qualche strategia ecco diciamo questo aspetto anche di auto-organizzazione a me interessa insomma se 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 ne può discutere diciamo ci può essere utile da indicazioni intelligenti insomma perché poi uno veramente se ne inventa di modi insomma ecco quindi volevo sapere voi come gestivare diciamo ma diciamo che noi da questo punto di vista abbiamo diciamo lasciato sempre il progetto nasce per essere accessibile da tutti e da tutte per cui per fare ciò abbiamo comunque mantenuto dei livelli di sottoscrizione molto bassi nel caso in cui si potesse sottoscrivere e inesistenti nel caso in cui non fosse possibile sottoscrivere nello specifico che vuol dire vuol dire che chi ha meno di 15 anni può partecipare all'attività della palestra pagando 15 euro al mese chi ha più di 15 anni può partecipare pagando 25 euro al mese dopodiché abbiamo cioè non abbiamo una vera e propria segreteria un controllo all'ingresso e viene lasciato tutto molto alla alla coscienza dei partecipanti per cui le persone che fanno parte del percorso sanno che tipo di percorso è sanno come si alimenta sanno che ha delle spese fisse adesso poi vi spiego anche quali e quindi sanno che se ognuno fa la sua parte anche minima il percorso continua a esistere se tutti quanti fanno un po' lignorri e diciamo pensano di affari loro il percorso però poi muore su se stesso nello specifico diciamo che da gennaio 2020 la palestra ha anche firmato un precontratto di assegnazione per cui attraverso una mediazione che c'è stata con la regione Lazio e con l'Ater abbiamo ottenuto hanno riconosciuto il valore sociale dell'esperienza e ce l'hanno preassegnata quindi abbiamo anche in realtà un affitto che comincia che dovrebbe essere devoluto tutti i mesi e sono in circa 400 euro al mese per l'affitto dell'immobile dico dovrebbe essere perché ancora non è partito materialmente per dei problemi burocratici interni all'Ater però diciamo il precontratto è stato fermato firmato ecco e quindi questo e poi noi da subito abbiamo nonostante l'articolo 5 prima citato non so se entra troppo nello specifico però diciamo che da subito abbiamo preferito fare dei contratti per le utenze all'interno della palestra nonostante fossero occupazioni questa è una scelta che abbiamo fatto per non accumulare debiti con la proprietà una scelta che diciamo forse pozzeno di poi si è rivelata anche corretta e quindi le utenze arrivano e sono sempre arrivate dall'inizio dell'attività acqua e luce quindi tutto ciò è possibile sempre e solo perché chi lavora all'interno della palestra non riceve nessun tipo di stipendio di retribuzione di riconoscimento per il tempo e per il lavoro che viene svolto questa è una cosa che finora è andata bene così sicuramente nonostante l'entità dell'impegno l'obiettivo però sul lungo periodo è quello in realtà di cercare di creare un sistema che permetta non tanto a noi la prima generazione anche a noi se possibile in parte però comunque che crei un sistema di anche di sostegno dei ragazzi che crescono all'interno del percorso palestra e lo spiego un po' meglio ad esempio i turni amatoriali sono in questo momento tenuti da me in qualità di tecnico con il sostegno dei ragazzi che fanno parte del turno agonisti per cui i ragazzi che combattono e che rappresentano la palestra dal punto di vista agonistico ecco l'idea sarebbe quella un domani di riuscire a riconoscere a questi ragazzi un gettone per la partecipazione per la presenza per l'impegno che mettono e per il fatto che portano avanti il progetto palestra questo come non aumentando i singoli costi di ingresso per le persone ma cercando di aumentare il numero di partecipanti per cui abbiamo visto che ad oggi con 80 iscritti la palestra si mantiene ed ha dei fondi sufficienti per sfoggere attività quindi riusciamo a portare i ragazzi a fare il training camp a settembre allenarsi una settimana fuori due volte al giorno con il piano nutrizionale in un posto bello bla bla riusciamo a fare attività andando extra regione quando si poteva per combattere o a fare altre cose così è però se riusciamo a moltiplicare il numero di persone che partecipano al progetto della palestra forse sarà anche possibile non solo fare attività ma anche sostenere i ragazzi che fanno parte del progetto riconoscendo una partecipazione un contributo in quel modo sei riuscito a chiudere il cerchio perché a questo punto poi l'impegno che loro il tempo che anche che loro passano l'impegno che ci mettono ha un riconoscimento che non è obbligatorio ma in alcuni casi diventa necessario per riuscire anche a tenerli all'interno del progetto perché sennò finché sono piccoli è tutto più facile quando crescono e cominciano a incontrare le prime difficoltà a volte diciamo che le scorciatoie poi diventano troppo attrattive e invece così insomma riesci a mantenere il fuoco sulla direzione di ecco